buonasera si vedono gli occhi da sonno mannaia la cutrettola hola stasera una storia del paranormale indirettamente legata alla tematica della stirpe della corona d'inghilterra ma seppur indirettamente è degna di nota non tanto perché paranormale in quanto di paranormale in realtà non ha praticamente nulla se non qualche accenno postumo e da qualche evocazione più che altro quando la situazione stava già diventando un cold case per quasi 200 anni non si è saputo chi fosse in realtà jack lo squartatore assassino seriale dell'inghilterra vittoriana è proprio a causa del fatto che questo assassino sembrava imprendibile e quasi a dare idea che fosse protetto in qualche modo da qualcuno di molto in alto tra le mille mila ipotesi sulla sua identità tra i quali anche personaggi conosciutissimi come oscar wild o louis carroll fino a sospettare del principe alberto di sassonia alberto vittorio duca di clarence di sassonia che era un nipote della regina vittoria e quarto figlio mi pare o quinto figlio dell'erede al trono edoardo moltissimi occhi si puntarono sul principe di sassonia allo stesso modo sempre ruotando intorno alla famiglia reale anche sir williams baronetto di corte e cinecologo privato delle principesse di corte anche lui venne preso nell'occhio del mirino delle possibili indagini a oltre 200 anni ormai dai casi dagli omicidi effettuati da jack così veniva chiamato jack the chipper jack lo squartatore anche chiamato jack the ripper cioè jack la morte praticamente oggi come oggi si sa sia quasi la certezza anche se ormai è entrato nell'escalation dei cold case cioè dei casi risolti e ormai archiviati che in realtà jack lo squartatore fosse un tal aaron kominsky ma chi era questo aaron kominsky intanto non era legato alla corona anche se le fantasie del mistero del pazzo parente della corona hanno affascinato per decenni considerando poi episodi pre jack che narravano della pazzia di re giorgio terzo che narravano dell'improvviso cambiamento psicofisico di enrico ottavo e di altre problematiche sempre comunque legate a un discorso anche psicogenetico del filone della famiglia reale vero è che enrico ottavo non era parente perché con enrico ottavo anzi con elisabetta prima si chiuse completamente il filone dei tudor e subentrarono gli steward che era un'altra famiglia per cui ma a livello di regnanti inglesi di storia di regnanti inglesi diciamo che malattie genetiche e malattie genetiche che andavano a colpire anche la psiche delle persone se ne trovano in ogni dove dalla porfiria all'emofilia peraltro proprio portata dalla diramazione di vittoria stessa e a tante altre anomalie genetiche re giorgio terzo soffriva appunto di porfiria ma tornando invece a jack lo squartatore ad oggi è praticamente quasi palese che l'assassino più probabile di tutto il listone infinito delle teorie cospirative o meno riguardanti jack e che hanno da sempre affascinato il mondo dell'indagine tanto da rientrando nel discorso paranormale instaurare delle vere e proprie anche sedute spiritiche tentando di evocare o lo spirito dello stesso jack o lo spirito delle sue vittime proprio anche per una questione come si pensava nel diciannovesimo secolo di non far lasciare nulla di risolte quindi di riuscire a proclamare se non più ormai ad arrestare almeno a proclamare chi era stato a ucciderle e questo alone ha sempre circondato la storia di jack the creeper fin quando appunto dalle ricerche degli ultimi anni che non si sono mai estinte proprio per questo alone di mistero che alleggiava intorno a questa figura seppur fosse una figura di un serial killer sono arrivati alla conclusione che l'assassino dei tanti era appunto aaron kominski kominski era un parrucchiere barbiere di origine polacca e aveva il negozio e abitava proprio nella zona dove si erano verificati la maggior parte degli omicidi io qualche anno fa avevo letto tutte le presunte possibilità e devo dire che invece avrei dato quasi per certo un cocchiere di cui adesso non ricordo assolutamente il nome ma che sembrava essere più collegato dalle varie situazioni forse lo trovo ancora sul web se lo trovo vi dico il nome di chi dicevo io Jack lo squartatore serial killer no allora Jack lo squartatore identità magari qua lo trovo allora io si c'è tutta la lista e quindi eccolo qua io ero più propensa l'ho trovato quello che dicevo io a delle varie ipotesi che si erano fatte ero più propensa a Charles Allen Lachmere perché vi spiego anzi vi leggo direttamente Charles Allen Lachmere era un cocchiere e fattorino notturno di Whitechapel appunto il luogo la zona dove maggiormente avvenivano gli omicidi sposato e padre di 12 figli non conobbe mai il padre e visse con la madre con numerosi patrigni poco prima del primo delitto di Jack ebbe dei dissapori con lei cioè con la madre e si trasferì con tutta la sua famiglia tranne una figlia maggiore appunto a Whitechapel il suo percorso di lavoro era sulla strada di tutti i delitti alla stessa ora tranne che per due commessi nel luogo dove era cresciuto durante la sua notte libera di lavoro ecco quindi a me dava più idea che potesse essere lui anche se nelle liste già risultava Aaron Kominsky come dicevo invece Kominsky era un barbiere e parrucchiere sempre della zona di Whitechapel non sposato che lavorava con un aiutante in negozio ma da poco tempo si sono ritrovati alcuni appunti dell'aiutante di Kominsky e questi appunti dichiaravano ha un grande odio per le donne puntini di sospensione un po' più sotto di qualche riga con forti tendenze a omicide secondo me non so quanto rimarrò ritrovati questi appunti che vennero poi dati direttamente da alcuni eredi al museo di criminologia di Londra vennero analizzati nuovamente con le nuove tecniche dei reperti trovati all'epoca delle indagini tra questi reperti si trovava anche l'abbigliamento un abbigliamento sporco di sangue che venne nuovamente analizzato appunto e su queste su questi indumenti venne ritrovato il dna di una delle prostitute di cui erano stati a suo tempo archiviati altri reperti di nome Catherine Eddowes da lì e dal fatto che comunque Cominsky terminò la sua esistenza uscendo impunito dalle indagini quando era ancora vivo ma comunque con forti segnali di pazzia venne internato in un manicomio e poi morì all'interno del manicomio stesso nel 1899 quindi comunque gli squilibri mentali si fecero sempre più evidenti la lista dei sospetti è veramente lunghissima ora l'avevo aperta un attimo adesso su su wikipedia proprio per cercarvi il nome del cocchiere perché io mi ero proprio mi ha sempre un po' incuriosito ma a me tutti tutte le storie di indagini di cold case ma è risolte in qualche modo un po' mi incuriosiscono e quindi l'avevo già letta altre volte avevo già letto anche la situazione appunto del suddetto cocchiere e siccome era solito passare in quelle zone abitare in quella via due degli omicidi erano stati fatti nella sua zona di infanzia che era da tutta altra parte lui era solito anche a trasportare carne macellata per i macellai e quindi molto spesso risultava anche mentre portava la carrozza tutto sporco di sangue per cui il sospetto che tra tutti fosse quello più congeniale a poter essere un possibile geccolo squartatore me lo faceva pensare così in realtà poverino l'ho giudicato male ammetto i miei errori faccio le mie scuse nel caso fosse ancora un'entità vagante un'entità in giro in realtà appunto sembrerebbe che dalle ultime prove uscite Jack lo squartatore fosse definitivamente dichiarato Aaron Cominsky con la tematica della corona oggi come oggi c'è poco e niente col fatto che per tanti anni si è supposto invece che fosse il duca Alberto il duca Alberto Vittorio il duca di Clarence e nipote primo della regina Vittoria ed Inghilterra fa sì che comunque questa storia rientri anche a far parte nell'intero bagaglio delle storie vere supposte dei complotti paranormali normali e quant'altro che fanno da universo ellittico intorno alla casa reale inglese il video forse è stato relativamente breve ma ormai del filone sto cominciando a mettere insieme solo le piccole nozioni di contorno credo che nella totalità di questi video dedicati al contorno dei reali di Inghilterra ce ne saranno ancora un paio per poi chiudere con l'ultimo che è quello della seconda mandata appunto dei Tudor e poi finirò questo tsunami abbattutosi su tutta la paranormalità o anche solo la stranezza e i complotti a fiocchetto messi in giro appunto dei casati delle famiglie reali inglesi cosa mi è rimasto di cui parlare mi è rimasto del rubino della persona del personaggio oscuro che fa parte della corona ufficiale in Inghilterra del diamante posto proprio sotto al rubino è considerato anche lui tra le pietre maledette o comunque porta sfiga e rientreranno nella playlist appunto delle categorie degli oggetti maledetti la seconda parte dei Tudor sarà sempre dedicata a storia del paranormale come playlist e poi mi sembra di avere esaurito il filone ci saranno magari ancora accenni che farò riguardanti a certi casi ma sono talmente piccoli e talmente brevi riguardanti magari certe oggettistiche o certe altre situazioni paranormali che ne parlerò poi quando parlerò di altre tematiche e magari verranno a galla ma diciamo che il grosso è tutto quello che ho fatto finora dalla morte di Lilibet ad oggi detto detto questo uno non avevo fatto salutare Lady Ghost e Lady Sadako che ci tengono io invece vi saluto pure penso che crollerò proprio in maniera indecente perché ho un sonno che vedo a righe che altro dirvi ecco una volta che non tossisco mi è lo sbadiglio qua sotto come al solito tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più sotto tre o quattro dei mille mila link invece che tengono in vendita i miei libri anche perché ve l'ho detto adesso al momento io non sono a disposizione di Tomy quindi al momento li trovate soltanto nelle librerie sia fisiche che online ve lo dico anche nei video perché me li chiedete in continuazione ma io ormai prima di ottobre non avrò nulla di nuovo quei pochi che mi erano arrivati come sono tornati alle ferie sono evaporati e meno male per carità io anzi non so mai come ringraziare a prescindere però appunto non ne ho altri e quindi invece tramite Amazon Streetlib Ibs Feltrinelli Mondadori le biblioteche fisiche e vai e via dicendo li trovate tranquillamente in pronta consegna a tutti quanti ci sono anche le versioni peraltro ebook se li volete leggere direttamente sul telefonino o sul tablet detto questo rinnovo i saluti nannaio ciao ciao ciao